Morgé ha ottenuto la qualifica città che legge nel 2020 e l'ha riottenuta per il biennio 22-23 grazie alla presenza di una biblioteca aperta tutto l'anno, di diversi punti in cui è possibile comprare dei libri e di molte manifestazioni che vengono organizzate con le scuole, con il comune, l'Aproloco, la Fondazione Sapegna e la biblioteca per valorizzare il libro. Il circuito di Book Crossing alimentato con la collaborazione degli abitanti del paese è uno dei nostri punti di forza che ci ha permesso appunto di entrare in questo circuito al quale si aggiunge adesso anche la rotonda sulla statale. Siamo nel parco della biblioteca di Morgé, questo è il Book Crossing, come vedete è una casetta della biblioteca, adesso ci sono diversi libri donati da che passa per me qua. Vi ricordiamo che il Book Crossing deve essere usato per i libri che non volete più leggere, ma che sono in buono stato e che sono ancora usufruibili per altre persone. Ce ne sono tanti altri a Morgé, in tutto sono 40 sparsi per il comune, nei parchi e anche per le case. Trovate la mappa con tutte le postazioni sul sito del Parco della lettura.